Qualche spiraio nel difficile processo di internalizzazione del call center in IMSS servizi si comincia a vedere. Il tema entra anche nel dibattito politico. IMSS ha approvato il piano industriale che ora mercoledì prossimo andrà al consiglio di amministrazione. Entro fine mese ci sarà il bando di selezione chiuso per titoli per l'assunzione di 3.014 lavoratori. IMSS ha fatto sapere dopo un incontro con sindacati e presidente dell'istituto che gli attuali siti saranno mantenuti. I lavoratori però sono 3.319 e alcuni rischiano di non essere nel perimetro seppur il bando sia una garanzia anche senza clausola sociale. Finalmente una luce si incomincia a vedere nel processo di internalizzazione del servizio contact center IMSS. Il 14 scorso come SLC Fistel Wilcom abbiamo incontrato il presidente Tridico che ci ha esposto i punti salienti del piano industriale che notizia appunto della tarda serata di ieri è stato approvato dal CDA di IMSS servizi e che passerà a breve all'approvazione del CDA di IMSS. Un piano industriale che prevede il mantenimento dell'orario di lavoro, il mantenimento dei livelli inquadramentali e l'applicazione del contratto delle TLC. Non verrà applicata la clausola purtroppo, la clausola sociale, ma verrà applicata la selezione pubblica per titoli per 3.014 lavoratori. Sappiamo benissimo che questo piano industriale non garantisce l'attuale perimetro occupazionale perché resterebbero fuori circa 300 lavoratori, in più il budget che attualmente non ci sono le risorse necessarie visto che deve essere applicato in varianza di spesa. Come SLC, Fistel, Wilcom, continuiamo a portare avanti la nostra battaglia e chiediamo alle istituzioni tutte di avere risposta rispetto alle lettere che hanno inviato ai ministeri, quindi avere risposte e poter insieme percorrere la strada affinché tutti i lavoratori dell'Aquila, i 530 lavoratori dell'Aquila, non perda nessuno il posto di lavoro. Per la deputata Pezzopane passi in avanti ne sono stati fatti, ma l'obiettivo è non lasciare a casa nessuno. Il sindaco Pierluigi Biondi invece ha un po' frenato gli entusiasmi e dice no a soluzioni a metà. Il processo anche per lui comunque dovrà coinvolgere tutti i lavoratori, oltre 500 con contratto a tempo indeterminato che operano nel tecnopolo d'Abruzzo, ma nel bando sarà inserito un criterio per l'assegnazione dei punteggi solo a coloro che hanno avuto una prevalenza sulla commessa IMS, discriminando di fatto altri operatori che hanno fatto altre mansioni e che rischiano di rimanere fuori dal discorso.